momenti ad alta tensione si vivranno durante i nuovi episodi di terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su canale 5 le trame della uno stagione attualmente in onda in italia segnalano che gluten taskin si beccherà una pallottola nel tentativo di salvare il ma zaccaia dalla furia di demiriaman le anticipazioni di terra amara riguardanti i prossimi episodi italiani annunciano brutte notizie per gultina tutto inizierà quando il maz verrà portato in carcere dopo uno scontro a fuoco nel quale ferirà un uomo in pratica il protagonista punterà un'arma da fuoco contro un malvivente reo di aver messo in dubbio il suo rapporto con vegan purtroppo il malcapitato verrà colpito durante lo scontro con accaia tanto da essere operato d'urgenza in ospedale dall'altro canto l'ex meccanico sarà portato in galera sebbene sia rimesso in libertà poche ore dopo grazie all'aiuto di fecheli che convincerà il ferito che si è trattato solo di legittima difesa ma i problemi per il maz non saranno finiti dagli spoiler di terra amara si vince che il protagonista si imbatterà in un'intervista rilasciata da demir e zuley a dove ribadiscono di essersi innamorati grazie ad un colpo di fulmine neanche a dirlo accaia si arrabbierà moltissimo quando capirà di essere stato screditato dalla sua ex fidanzata per questo motivo l'ex meccanico non vedrà l'ora di informare il rivale di essere diventato il proprietario dell'abitazione di ser min ed ecco che il giovane yaman si scaglierà come una furia contro il mas tanto da arrivare a minacciarlo con una pistola quando si rifiuterà di rivendergli l'immobile un gesto che susciterà la reazione di accaia il quale non esiterà ad estrarre la sua pistola con conseguenze a dir poco drammatiche tutti i dipendenti della tenuta si recheranno nel giardino per cercare di fermare il furioso litigio tra i due grandi rivali anche un care zuley a supplicheranno demir di risparmiare la vita di il mas ma non verranno ascoltate il potente impresario infatti sparerà un colpo di pistola che finirà per ferire gluten alla spalla quando si metterà di mezzo per salvare accaia la domestica a questo punto verrà trasportata in ospedale dal padrone che apparirà molto dispiaciuto per quello che ha fatto una volta ripresasi taskin racconterà di essersi ferita per sbaglio una versione che tuttavia non sarà creduta dal dottor sabatin che deciderà di parlare a quattro occhi con il mazedemir a quattro occhi con il mazedere grazie a tutti